A Pasquetta noi volontari del GAR vi invitiamo per una visita gratuita, guidata, per scoprire insieme gli ultimi monumenti di epoca romana e palisca che abbiamo riportato alla luce in questi ultimi anni. La visita verterà su tre nuclei principali, innanzitutto le tombe in località genitura che abbiamo riportato alla luce tra il 2011 e il 2014, proprio di fronte all'ingresso all'Oasis Lugueto, il monumento naturale via Sant'Angelo, di epoca falisca. Poi ci sposteremo per vedere il tratto meglio conservato della via Merina, la strada romana che i romani costruirono all'indomani della conquista dell'agrofalisco nel 241 a.C., per terminare infine a San Giovenale, il sito rupestre che stiamo riportando alla luce da tre anni in questa parte sotto la direzione della superintendenza e beni archeologici e che è un sito particolarmente interessante perché ha testimonianze soprattutto di epoca falisca, cisterne, tombe purtroppo depredate, granai, aree di lavorazione e conservazione del cibo, accanto anche ad altre testimonianze poi di epoca romana. L'appuntamento è lunedì alle 16 qui, all'antica stazione che è la sede operativa, la vostra sede operativa e che si trova vicino ai tre siti che andremo a visitare. Sì, il percorso è molto facile, è assolutamente facile, quindi è adattissimo alle famiglie e ai bambini soprattutto.